Faella Grazie mille, grazie mille Allora, senti, io penso, gliela fai? Sì, piano piano Ecco, allora scendiamo un momentino, credo che gli applausi siano venuti anche per questo meraviglioso abito che indossi questa sera un abito che immagino tutte le signore ti stiano invidiando Non lo so, ma io l'82 lo vedo così, un po' sulla farfalla Sì, sembra proprio scesa dal tram in questo momento, direi pensate sul tram con un abito di questo genere che si chiama, credo, a palloncino come si chiama? A palloncino, sì con luce così a destra e a sinistra e che danno disinvoltura all'abito stesso Sì, sì, è proprio agio con questo vestito No, comunque è molto carino Senti, posso approfittare di dire una cosa che sento veramente? Sì Allora, senti, io ho viaggiato moltissimo negli ultimi anni ho girato quasi tutto il mondo ho avuto delle soddisfazioni personali straordinarie veramente, ho avuto affetto, ho dato affetto però sono molto contenta di essere tornata a casa perché perché l'Italia veramente è mondiale, grazie E tu, non mi prendere in giro Io per carità, assolutamente Ciao, brava Ciao Grazie, grazie anche a te Grazie Ciao